Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia Municipale, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di pesci morti e sulla colorazione torbida dell'acqua, ha effettuato con l'ausilio dei volontari della protezione civile una serie di controlli sul tratto del Tusciano che attraversa il territorio di Battipaglia fino ai confini con Bellizzi. Da tali rilievi è emerso che all'altezza dell'innesto del torrente Valle Monio le acque cambiano colore. Stamattina sono continuati i controlli e i sopralluoghi da parte della Municipale che provvederà ad inoltrare un'informativa di reato contro ignoti con tanto di foto.